Morì dopo Graviustioni nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, otto indagati. Guardone scoperto a Pian del Lago, nota dell'Associazione Polisportiva Alba Verde. Sommatino, traffico e combustione di rifiuti, in sei agli arresti domiciliari. Momenti di paura nel centro storico di Caltanissetta per una notevole fuoriuscita di fumo da una rivendita di kebab. Due furti notturni a Caltanissetta, nelle vie San Giovanni Bosco e consultore Benintendi. È tempo di muffolette e biscotti di San Martino, nel segno di un'antica tradizione siciliana. Ci sono otto indagati per la morte del 31enne San Cataldese Alessandro Tomasella, deceduto il 31 ottobre scorso per le ustioni di secondo e terzo grado, riportate, probabilmente per un ritorno di fiamma, nel corso di una grigliata con alcuni amici. Omicidio colposo il reato ipotizzato dai magistrati della procura di Catania, competenti sull'indagine, visto che il decesso è avvenuto all'ospedale Cannizzaro della città etnea, i quali hanno deciso di aprire un'inchiesta per fare piena luce sulla vicenda, a seguito della denuncia presentata dai familiari di Tomasella. Oggi sarà eseguita dunque l'autopsia sul corpo del giovane da un collegio di tre medici legali. Al centro dell'inchiesta ci sono alcuni componenti del personale sanitario del Sant'Elia, tra medici e infermieri, anche l'autista dell'ambulanza con cui Tomasella venne trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, oltre a uno degli amici dello sfortunato giovane. Diversi punti da chiarire, in particolare sulle modalità e soprattutto la tempistica dei soccorsi prestati ad Alessandro Tomasella in quei tragici momenti dello scorso 31 ottobre. Il giovane morì per un arresto cardiaco poco dopo l'arrivo all'ospedale Cannizzaro di Catania, struttura dove era stato accompagnato per ricevere cure migliori per le ostioni subite. Uno dei punti centrali riguarda proprio la modalità di trasporto. Quando il 31enne venne accompagnato al Sant'Elia era stato disposto il trasferimento a Catania, ma l'elisoccorso in quel momento era impegnato in un altro servizio e quindi si decise per il trasporto in ambulanza. All'indomani della vicenda del sacerdote che ha spiato dentro lo spogliatoio sono arrivate le dichiarazioni del presidente della squadra, Oriana Mannella, che ha dichiarato «Sono profondamente dispiaciuta che il nome dell'Alba Verde o comunque di una società di pallavolo femminile di Caltanissetta sia rimbalzato sui social per vicende extrasportive. Al di là delle speculazioni che si possono fare sul ruolo rivestito dall'individuo di cui non conosciamo il nome», ha continuato Oriana Mannella, «resta la gravità del fatto per una vicenda che ha contornio sé, al di là delle giustificazioni sicuramente risibili, che ha fornito di prima acchito il protagonista. Siamo disgustati», ha proseguito la presidente dell'Alba Verde, «e condanniamo qualsiasi forma di violenza a tutti i livelli. Mi sento in dovere di manifestare la mia vicinanza alle mie giocatrici, soprattutto le minorenni, in quanto, come donna, mi immedesimo in quello che stanno provando, anche perché qualcuna di loro si è posta la domanda circa la possibilità che da tempo potevano essere osservate. Come società, prosegue la Mannella, stiamo seguendo con attenzione la vicenda, cercando di evitare facili strumentalizzazioni, ma al contempo per capire se e come dovremmo intervenire nel caso in cui la vicenda dovesse avere risvolti di tipo giudiziario». Questa mattina i carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa nel corso delle indagini preliminari che sottopone agli arresti domiciliari sei persone residenti nella città di Sommatino e appartenenti al medesimo nucleo familiare, a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di traffico illecito di rifiuti e combustione illecita di rifiuti. Secondo le indagini che sono iniziate nel 2020, nella stazione ferroviaria del comune di Sommatino sarebbe stata realizzata una discarica abusiva, sottoposta a sequestro preventivo, sin dal giugno 2021. I rifiuti raccolti nella stessa area sarebbero stati in parte bruciati e in parte sarebbero stati venduti a ditte specializzate. Contestualmente all'esecuzione delle ordinanze è stato effettuato il sequestro preventivo, richiesto dalla Procura e disposto dal GIP, di un veicolo utilizzato per il trasporto legale dei rifiuti. A seguito dei fatti avvenuti a Gela, lo scorso 24 ottobre si è tenuta in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con cui è stata disposta un'ulteriore intensificazione di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. Già martedì e mercoledì le unità della Polizia di Stato e del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito numerosi controlli per cercare armi esplosivi e stupefacenti in specifiche zone della città, che sono luoghi legati al mondo della delinquenza. Due gli arresti eseguiti in flagranza di reato, uno di un 49enne che per sottrarsi al controllo ha fatto resistenza e violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e l'altro, un 29enne, evaso dagli arresti domiciliari, eseguiti su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela. I due uomini sono adesso agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Altri due sono gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica gelese, il primo nei confronti di un 29enne condannato a scontare una pena di 6 anni e 4 mesi per diversi furti aggravati, il secondo nei confronti di un 38enne condannato a scontare una pena di 4 anni, 5 mesi e 13 giorni di reclusione per reati di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti, ben 13 le persone denunciate in stato di libertà del commissariato di Gela, vario titolo per reati contro il patrimonio e contro la persona, sequestrato anche un fucile a canne mozze con matricola a brasa e sequestrata anche cocaina e hashish per uso personale nei confronti di due assuntori segnalati alla Prefettura Nissena. Nel corso di 12 posti di controllo effettuati in città sono state identificate 508 persone di cui 293 gravate da pregiudizi di polizia, 8 le perquisizioni eseguite, controllati 224 veicoli, 56 tra arrestati e detenuti ai domiciliari, liberi, vigilati e sorvegliati speciali, rilevate 40 infrazioni al codice della strada con il sequestro di 3 veicoli. Tanta paura ieri pomeriggio in centro storico, dove sembrerebbe che una frigitrice avrebbe preso fuoco dentro la kebabberia che si trova all'ancolo di via Palermo. Il proprietario del locale, un ragazzo afgano, si era allontanato per mezz'ora, lasciando la frigitrice accesa, ignaro che da lì a poco sarebbe accaduto quello che è successo. I vigi del fuoco, tempestivamente chiamati non appena il fumo ha iniziato a diffondersi all'esterno e nella via, sono arrivati con due mezzi e in poco tempo hanno domato il pericolo. Il locale ha portato piccoli danni e per fortuna non ci sono stati feriti. Nella notte tra martedì e mercoledì si sono verificati due furti in altrettanti barra H24 della città. Le attività prese di mira dai ladri si trovano in via San Giovanni Bosco e in via Consultore Benintendi. I malviventi, in entrambi i casi, hanno preso di mira le gettoniere alla ricerca di denaro, riuscendo a portare via diverse centinaia di euro. Infatti è di circa 200 euro il bottino del furto di via San Giovanni Bosco, nel corso del quale sono anche state danneggiate tre macchinette. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti e i componenti della scientifica, mentre per l'altro episodio i danni devono ancora essere quantificati. Da capire innanzitutto se sia stata la stessa mano ad agire in entrambi i casi e su questo aspetto potrebbe essere d'aiuto l'eventuale presenza all'interno delle due attività commerciali o nei loro paraggi, impianti di videosorveglianza che potrebbero avere filmato quanto accaduto. Il medico della Polizia di Stato, il dottore Salvatore Di Benedetto, dirigente dell'Ufficio Sanitario della Questura e il suo staff, hanno iniziato il corso di istruttore e di primo soccorso tenuto da un istruttore del SEUS, Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118. Una volta formati gli istruttori della Polizia di Stato, procederanno con la formazione interna del personale della Questura, dei commissariati e delle specialità in servizio nella nostra provincia. Il corso di primo soccorso ha lo scopo di fornire al lavoratore designato le conoscenze necessarie per la gestione di un'emergenza. Tale corso permette di acquisire le adeguate capacità al fine di avvisare correttamente e tembestivamente i soccorsi ed assistere la persona che è ingappata in un incidente fino all'arrivo dei soccorsi. Oltre al dottor Di Benedetto abbiamo ascoltato il poliziotto Salvatore Amico, che alcuni mesi addietro si è trovata a soccorrere per strada una cittadina. La Polizia di Stato, come tutte le forze dell'ordine, ha tra le sue missioni principali il soccorso pubblico. Le città più grandi in Italia, quindi sede di questuro di commissariato, hanno al proprio interno addirittura un ufficio che porta nel nome il soccorso pubblico, è l'UPGSP, l'Ufficio di Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico, che è tra l'altro l'ufficio più noto alla popolazione, che vede intervenire H24, automezzi e personale per il soccorso alla popolazione e le diverse esigenze. Spesso capita che queste esigenze di soccorso siano miste, cioè abbiano implicazioni di polizia, implicazioni tecniche e implicazioni di soccorso alla persona. E' quindi importante che il personale di polizia, soprattutto dopo l'epoca Covid che ci ha visto orientare le energie verso tutt'altra direzione, venga nuovamente e aggiornatamente qualificato verso questa attività di soccorso alla persona per quanto laico. Abbiamo fatto la scelta di rifare la formazione intanto dei formatori, cioè di noi stessi, medici, infermieri e personale che opera negli uffici sanitari, nell'Ufficio Sanitario di Caltanissetta meglio, per poter riavviare nuovamente alla formazione e alla standardizzazione del personale. Durante l'espritamento del Servizio di Controllo del Territorio, in questa città, mi trovavo di volante e notavo una donna a casciarsi per terra. Nell'immediatezza la raggiungevo, notavo che il battito alla carotide e al polso era assente, era pure assente il respiro, quindi immediatamente mi sono prodigato ad effettuare il massaggio cardiaco e contestualmente ho chiamato personale del 118 che giungeva sul posto e ha preso in carico la signora. Fortunatamente, agendo con dembestività, la signora comunque si è ripreso. Questi corsi sono molto importanti. La nostra amministrazione di appartenenza ci dà la possibilità di effettuare questi corsi in modo da avere una linea madre, così da lavorare comunque con le massime capacità operative e ottenere il massimo risultato. Sembra tutela e protezione del cittadino. Il presidente d'Italia Nostra, Leandro Iannì, sollecita un intervento di restauro per il Monumento ai Caduti. Il ricordo dei caduti e delle guerre nel nostro paese, Italia Nostra ha indetto per il 4 novembre la giornata del Monumento ai Caduti. Tutti i comuni, anche i più piccoli, conservano un patrimonio diffuso di monumenti di arte e di memoria, unico nel suo genere, spesso di buona qualità, sempre realizzato con materiali di pregio. Anche Calfanissetta ha il suo Monumento ai Caduti. Il 4 novembre, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, ai piedi del Monumento ai Caduti di Viale Regina Margherita, si radunano le autorità civili, militari e religiose, in presenza di cittadini e scolaresche. Il rituale prevede la cerimonia dell'alza bandiera, la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, la deposizione di una corona da loro da parte del Prefetto e la partecipazione di membri dell'Associazione di Ex Combattenti, vittime civili e reduce di guerra. Italia Nostra però evidenzia il mediocre stato di conservazione del Monumento ai Caduti, realizzato a suo tempo da Cosimo Sorgi. Si notano marmi divelti, fessurati e manganti. L'ossitazione dei due cannoni in ferro ai lati della statua è stato di degrado. Pertanto, l'Associazione sollecita un intervento di restauro da parte del Comune di Calfanissetta e della Soprintendenza ai Beni Culturali, al fine di restituire piena dignità e integrità a questa peculiare testimonianza della storia e dell'arte italiana presente nella nostra città. Come avviene quasi sempre in occasione di una festività, le tavole dei siciliani e quindi anche dei nisseni si arricchiscono di pietanze tipiche del periodo per lo più dolci. Subito dopo la commemorazione dei defunti accompagnata dalla frutta martorana, infatti, si celebra San Martino con le tradizionali muffolette e i biscotti che ricordano il nome del santo, prelibatezze che vengono gustate anche qualche giorno prima della festa. Si è una tradizione antica che è l'11 di novembre San Martino e in ogni provincia ha una tradizione diversa perché per esempio qui da noi si vanno queste dolce ricotte e mielo oppure in alcuni posti vanno quelli con la ricotta, il caccio cavallo e la milsa che sono quelle più umide, oppure i biscotti che ci sono, sia quelli morbidi di San Martino che sono quelli più moderni perché in antichità si facevano quelli belli duri perché devono essere ricottati che per la tradizione voleva che si trovano a bagnare nel vino nuovello. Numerose le varianti in tutta la Sicilia, a fare la differenza è soprattutto il condimento, scegliendo tra l'opzione dolce o salata. Ci sono tante preparazioni in realtà perché la gastronomia siciliana ha tante preparazioni, perché poi ogni località ha la sua tradizione. Qui da noi a Caltalissetta la più popolare è la tradizionale con ricotta e miele. Si può fare sia di pasta dolce che di pasta di pane, aggiungendo all'impasto dello zafferano e del pinocchietto, pinocchietto d'anici o pinocchietto ingranato si dice. Ricotta e miele per la tradizionale dolce, altrimenti si può fare salata con ricotta sempre fresca, olio appena macinato, quindi freschissimo e poi si aggiungono le acciughe, il caciocavallo, il sale, il pepe, poi adesso poi è anche questione di gusto. C'è chi li fa col tritato bianco, chi li fa col ragù, c'è chi li fa con ricotta, caciocavallo e milza. Si può spaziare, si può variare. Anche per quanto riguarda i biscotti si prevedono diverse preparazioni. I biscotti di San Martino sono sempre tanti, sono tante varietà perché la Sicilia varia, spazia, nel senso che abbiamo diversi biscotti in San Martino. Abbiamo il biscotto morbido, abbiamo il biscotto duro tricottato, abbiamo il biscotto decorato alla palermitana e poi abbiamo le varie forme che distinguono questo biscottino, che comunque si fanno le mafaldine, si fanno delle forme un po' particolari e si aggiungono tutti i semini dentro, sia di sesamo sempre che di finocchietto. Finocchietto o angel, sì, in effetti questa è anche una questione di gusto, anche su quello. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì la perturbazione giunta sulle regioni settentrionali tenderà a muoversi verso il nord-est, influenzando il tempo anche dell'alto versante terrenico, ma comunque le precipitazioni andranno esaurendosi, anche grazie all'imporsi di questo campo anticiclonico proprio sull'Europa centrale, quindi pressione in aumento nel corso della giornata. Per quanto riguarda la mappa della nuvolosità, notiamo come gran parte del centro nord Italia si ha le prese con le nuvole, nuvole che poi interesseranno anche il sud, ma qui con clima che rimane asciutto. Infatti, osservando lo zoom delle precipitazioni, avremo una giornata asciutta su gran parte del centro sud, mentre le piogge rovesci tenderanno a insistere inizialmente sul nord-est e l'alto versante terrenico. Più nel dettaglio quindi della previsione attesa sul nostro paese, avremo una giornata di giovedì con tempo che andrà migliorando al nord-ovest, instabilità invece sulle Venezia e sull'Emilia Romagna, ma anche sulla Toscana con piogge rovesci anche qualche temporale sulle coste toscane. Situazione comunque anche qui in miglioramento nella seconda parte del giorno, mentre sul resto del centro sud la situazione vede un tempo abbastanza nuvoloso ma con clima che resta asciutto. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno Al Duomo, via Filippo Paladini Servizio notturno La China, via Fraggia Ratana Servizio di pubblica